Uomini e donne, Gemma struncata da De Filippi, ma ancora devi capirlo? Torna al centro dello studio Gemma Galgani che, ha uomini e donne e ormai un'icona. Ad accendere i fari sulla dama, stavolta sono Claudio, Michela e Gabriella con cui siede in studio. La dama torinese è uscita con il cavaliere, su cui Tina Cipollari ha dato vita a vari show. Infatti, l'opinionista ha detto di essere interessata a Claudio, ma ironicamente. Ma, mentre Gemma continua a discutere con Tina, non si sofferma sul fatto che Claudio vuole chiudere la loro conoscenza appena iniziata. Leggi anche GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Riana Marzoli, le frasi infelici pronunciate durante il GF Gay Night. Gemma chiede a un certo punto a Claudio se ha capito che la Cipollari non fa sul serio quando si dice interessata a lui. Ed ecco che interviene Maria De Filippi che stronca Gemma subito, ma tu l'hai capito adesso che lui non vuole più uscire con te invece. Galgani resta spezzata di fronte a questa reazione della conduttrice, mentre Tina si lascia andare a una grossa risata, lei che si preoccupava che lui non capiva che io non volevo uscire davvero e invece. Gemma è sempre più convinta che Tina, giocando con Claudio, abbia causato la fine della loro conoscenza. Questa sua considerazione scatena l'ira della Cipollari, se un uomo è davvero interessato niente lo ferma. Claudio risponde di non aver trovato quel feeling che cerca con Galgani, che diventa furiosa. Perché crede che il cavaliere avrebbe dovuto dirle ciò che pensava prima, e le ha detto adesso. Lo vengo a sapere ora, non l'ha detto ieri. Non solo, la dama torinese si lascia anche andare a uno sfogo, guarda Maria una cos'è certa. Essere empatici vuol dire essere felici. Io vado comunque avanti la mia empatia. Tu non metti sentimento nelle cose che fai, già da ieri come ti sei comportato. Avresti potuto farmelo capire ieri, no? Intanto, Claudio decide di proseguire le sue conoscenze con Michela e Gabriella. È ormai noto che da parte di Cipollari non c'è un reale interesse ma che tutto sia nato solo per creare il botta e risposte con De Filippi. E, puntuali, arrivano anche i meme su Twitter che non smettono di regalare sorrisi. Daca nu intelegi textul suno pe Irina Nistor, va intalniti in tristor la zero grade viscoli. Nu tac nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari zintor. Că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, decât mai tot ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta. Să admire nave spațiale de pe Andromeda.